Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata agli integratori alimentari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano, e commentare con le tue esperienze personali, in base agli integratori date e assunti, grazie ai suggerimenti condivisi. In questo video esaminiamo, l'integratore alimentare, Selain. A cosa serve? Selain ha un integratore appartenente alla categoria degli integratori per la donna in gravidanza e allattamento. È commercializzato in Italia dall'azienda Nutralabs SRL. Informazioni commerciali. Titolare. Nutralabs SRL. Concessionario. Nutralabs SRL. Categoria di appartenenza. Integratori per la donna in gravidanza e allattamento. Forma farmaceutica. Capsula. Confezioni. Selain 30 capsule da 350 mg, 10,5 g. Indicazioni. Il folato contribuisce alla crescita dei tessuti materni in gravidanza. Una flora batterica vaginale dominata dall'octobacillus crispatus, definita come categoria community stateta IP, ha considerata quella maggiormente associata ad un ambiente vaginale sano. Modalità d'uso. Si consiglia l'assunzione di una capsula al giorno da deglutire con un bicchiere d'acqua. Descrizione e caratteristiche. Selain ha un integratore alimentare con probiotici, 5 miliardi di l'octobacillus crispatus, e fonte di folato, 400 mcg di acido folico nella sua forma più biodisponibile acido 5, metiltetraidrofolico. Diversi studi hanno verificato che un microbiota dominato dall'octobacillus crispatus si correla maggiori probabilità di restare incinta e portare felicemente a termine la gravidanza, sia nella fecondazione in vitro che nell'inseminazione artificiale che nella fecondazione intrauterina. L'actobacillus crispatus ha la specie che domina il microbiota delle donne che partoriscono a termine. Al contrario la sua scarsità e barra o l'abbondanza di altri batteri sono associate a un maggior rischio di parto prematuro. Queste le conclusioni di numerosi studi condotti in diverse parti del mondo. Stati Uniti, Gran Bretagna, Irlanda, Corea del Nord, Birmania, India. Allergeni senza glutine, privo di lactosio. Ingredienti probiotici, 5 miliardi di l'actobacillus crispatus, e fonte di folato, 400 mcg di acido folico nella sua forma più biodisponibile acido 5, metiltetraidrofolico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento ci vediamo al prossimo, integratore alimentare esaminato.